In tanti hanno voluto partecipare questa mattina alla tradizionale benedizione degli allevatori e degli animali in occasione della fiera di Santa Bondio. Mucche e cavalli si sono spostati in una sorta di fattoria didattica lungo le mura nell'area mercatale, un ritorno alle origini dopo molti anni. Sul palco, accanto a Don Andrea Messaggi che ha benedetto gli animali, erano presenti il sindaco Mario Landriscina e l'assessore alla cultura Simona Rossotti. Altra novità di quest'anno, la colazione lariana, proposta questa mattina con i dolci tipici comaschi, accompagnati dal latte delle aziende del territorio. Dopo il successo del fine settimana, ultimo giorno per lo street food in Largomiglio, proposto dalla Coldiretti in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni e le imprese del territorio. Nel complesso di Santa Bondio, fino alle 23 sarà visitabile un mercatino di prodotti artigianali lariani. Domani, giornata conclusiva della fiera, nell'area situata accanto alla Basilica. Oltre al mercatino, fino alle 22 rimarrà allestita la mostra sul tema Ortus, erbe, fiori e piante, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, proposta dalla società archeologica Comense. A pranzo e cena sarà possibile mangiare alla fabbrica dei sapori comaschi, curata dall'associazione provinciale Cuochi di Como. A chiudere la manifestazione, il torneo benefico di Burraco, in programma a partire dalle ore 20. Grazie a tutti.